Il mondo del gossip attende con ansia uno scatto di un bacio di Chiara Ferragni con una nuova fiamma dopo la fine del matrimonio con Fedez, a questo proposito si è espresso il fotografo Fabrizio Corona che ha sganciato una bomba durante un podcast Fabrizio Corona, parla l'ex fotografo dei VIP, Fabrizio Corona, lo sappiamo, si è guadagnato negli anni il nome di re dei paparazzi e fotografo dei VIP Dal 2007 ha fatto virare la sua vita professionale dedicandosi ad altri ambiti, ma l'esperienza lo accompagna tuttora Negli ultimi mesi, in particolare, Fabrizio Corona si è interessato molto al caso dei Ferragnez, la coppia formata dall'influencer Chiara Ferragni e dal rapper Fedez separatasi a inizio anno In più occasioni l'ex fotografo era intervenuto sulle loro vicende, facendo anche rivelazioni importanti su dinamiche rimaste sconosciute ai fan Nelle ultime ore, Corona ha deciso di sganciare un'altra bomba che riguarda una ipotetica foto di Chiara Ferragni mentre bacia la nuova fiamma dopo la rottura con Fedez Il rumor sullo scatto del bacio di Chiara Ferragni, dopo la fine del matrimonio dei Ferragnez, Fedez è stato paparazzato più volte in compagnie di ragazze con le quali, secondo alcune voci, avrebbe avuto dei flirt Chiara, dal canto suo, è rimasta molto più riservata e su di lei abbiamo solo alcune foto in cui si scatena in compagnia di amici godendosi la nuova vita da single Naturalmente sono sono mancati i rumors su nuove fiamme e flirt anche per l'influencer, ma il mondo del gossip aspetta ancora impazientemente qualche scatto dell'eventuale nuovo amore Fabrizio Corona ha parlato a questo riguardo ai microfoni del podcast di Fabio Rovazzi, 2046 Qui, il, re dei paparazzi, ha sganciato la bomba. Fabrizio Corona sgancia la bomba. Quanto vale lo scatto? Parlando di un ipotetico bacio tra Chiara Ferragni e di un altro uomo che non sia Fedez, Fabrizio Corona ha fatto una rivelazione bomba L'ex di Mina Moric provato a fare una stima di quanto un'immagine del genere potrebbe valere, spingendosi in una vera e propria valutazione economica La cifra sbalorditiva potrebbe fare partire la caccia alla foto Il bacio della Ferragni con uno vale 5.000 o 6.000 euro, ha spiegato il re dei paparazzi, proseguendo poi a spiegare che il mondo del gossip è cambiato moltissimo negli ultimi anni Tuttavia, uno scatto come quello del bacio dell'influencer potrebbe ancora portare scompiglio dal web alla stampa, fino al mondo televisivo Un fatto che sicuramente incentiverà a paparazzi e fotografi è impegnarsi al massimo per mettere le mani sulla prima foto Grazie a tutti Grazie a tutti.